Nell'attesa che c'è la riunione delle bacche, io mi sto facendo il ragù per domani, le uova sono bollite, poi ci metto i piselli, così mi inganno il tempo, visto che esco alle 7, sono le 6, e c'è la mia pupona Buffy su frigo, che non fa da sopra mobile, non è lei, l'altro maschione, il signor Manina Bianca, tutta è stilta, il signor Manina Bianca è tranquillo, e la che lo sono, smettila, smettila non ballare, ok Manina, Manina